Signori, so stanghissimo! Buona domenica! Oggi parliamo del verbo to sack. To sack. To sack vuol dire licenziare, ragazzi. Attenzione, to sack è molto informale. Lo sentite dire magari tra amici, tra altre persone che si conoscono, ma non lo sentirete mai dire dal vostro datore di lavoro, per esempio. Quindi, to sack, licenziare. They sacked her for being late. L'hanno licenziata perché era in ritardo. He got sacked from his last job. È stato licenziato dal suo ultimo lavoro. The company sacked hundreds of workers. L'azienda ha licenziato centinaia di lavoratori. L'azienda ha licenziato centinaia di lavoratori. Perchè... Grazie a tutti.